Oggi facciamo un ripasso delle operazioni con i bit dei registri. Tutto questo ci servirà per andare a capire come modificare i registri senza avere dubbi. Se non siete ancora iscritti al canale vi chiedo gentilmente di iscrivervi perché la vostra iscrizione mi dà un aiuto per continuare. Iniziamo subito. Lavorando con il registro a basso livello capito di fare degli shift o altri movimenti di bit, imposizioni di bit che al neofita o chi si avvicina per la prima volta a queste cose suonano un po' strano. Cerchiamo di fare qualche esperimento e fare un po' di chiarezza. Partiamo con uno sketch vuoto che caricheremo su un Arduino Uno. Non è rilevante poi la scheda perché sono in C++ quindi funzionano ovunque. Mettiamo la seriale. Vi faccio vedere un esempio. Allora prendendo da un codice qualsiasi per impostare i vari registri vi trovate delle scritture così, tipo questa. Mettiamola commentata. Abbastanza particolare. Per esempio cos'è questo "-bv"? Alcune volte invece che il "-bv", trovate il nome del registro poi magari avete questa impostazione or uguale che vuol dire sovrascrivi, sovraimprimi senza perdere il contenuto e avete magari dei nomi di flag con una roba del genere. Uno meno meno e poi abbiamo per esempio il nome di questo flag qua. Sono delle scritture che servono per impostare dei flag all'interno del registro. Proviamo a capire intanto cosa c'è dentro. Usiamo serial print per stampare il contenuto. Println. Allora se io vado a prendere questo com2a1 che cosa ci sarà dentro? Non ne abbiamo idea. Facciamo una prova. Quindi lo stampiamo. Mettiamo com2a1, due punti, punte virgola e incolliamo qui di nuovo un'altra serial println così che andiamo a capo. In questo modo stampiamo il contenuto di questa costante e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la sua funzione. Ovviamente mi fa salvare. Ok lo compiliamo. E lo carichiamo su un arduino 1. Ok vedete com2a1 vale 7. Questa scritta 1 con i due segnetti significa che noi prendiamo il numero 1, il bit1 e lo facciamo scorrere di 7 posizioni. Se io mi creo un registro finto unsigned byte reg e lo mettiamo uguale a 0. Poi questo registro lo stampiamo. Inizialmente così vediamo quanto vale. Facciamo reg magari qua gli mettiamo lo slash t così restano tutti spaziati è tutto più leggibile e qui mettiamo reg quindi se lo stampo vedrò 0 allora proviamo ad applicare questa cosa qua reg mettiamo or uguale proviamo tutti e due sistemi per esempio questo lo inseriamo qua e poi stampiamo il valore del registro modificato ah pardon stampo il valore del registro mettiamolo in binario così vediamo proprio gli zeri allora qua è un int unsigned int reg uguale a 0 compiliamo carichiamo una volta caricato ecco qua vedete che stampa 7 il registro prima della modifica 0 viene stampato in binario e poi qui sotto vedete che abbiamo impostato il bit nella settima posizione che sarebbe l'ottava perché parte da 0 quindi questa scrittura serve per prendere un 1 e spostarlo sull'ottava posizione analogo è usare underscore bv che è una macro che fa esattamente questa cosa per cui se io qua vado a mettere un reg diciamo or uguale invece che scrivete quella roba facciamo underscore bv decidiamo di impostare il bit nella seconda posizione quindi scriviamo questo e poi ristampo il contenuto del registro ricarichiamo e vediamo cosa succede ed ecco che abbiamo impostato anche l'altro bit quindi dovrebbe essere un attimino più chiaro quello che si può fare con questo bv che trovate spesso quindi in questa situazione qua vedete che abbiamo preso un registro questo è un registro dei timer un registro di sistema diciamo così e qui andiamo a impostare dei bit questi bit invece che mettere il numero abbiamo delle costanti predefinite che ci aiutano ad andare a impostare la cella relativa dei vari registri se andate sul datasheet di Arduino trovate proprio questo tipo di scritte quindi qui vedete ho il datasheet della Atmega se voi andate dentro nel registro vedete che avete questi VGM22 CS22 queste scritte qua le trovate pari pari nel codice così è più facile andare a impostarle ci sono altre possibilità che abbiamo lavorando con i registri quindi chiarita questa chiarita la modalità di impostazione qui se non ci credete a questa cosa qua che le mette insieme e serve per impostare più bit basta fare un test facciamo reg uguale a 0 me lo ripulisco e poi vado a impostare a piacere con degli or un po' di bit facciamo copia e incolla un due volte mettiamo per esempio il bit 0 il bit 2 e il bit 5 carichiamo sulla nostra schede e vediamo l'effetto di questo di questo settaggio combinato dei bit come vedete abbiamo impostato 0 2 e il 5 se non erro ci sono altre funzioni che vengono spesso usate per manipolare i bit intanto mettiamo sempre reg uguale a 0 così siamo pronti per lavorare possiamo andare a impostare pulire quindi fare set clear all toggle di un bit o anche testarlo sono sempre operazioni fatte bit per bit con degli operatori un po' particolari allora intanto abbiamo visto il set che è la funzione che abbiamo visto qua quindi se voglio fare reg voglio impostare un suo bit particolare useremo tre possibilità abbiamo questa scrittura qua questa qui un pochino più elegante oppure posso andare proprio a stampargli dentro il valore se faccio b 1 2 3 4 1 2 3 4 quindi ho un byte voglio impostare il secondo byte da destra farò una roba del genere quindi questo va a impostarmi il bit lo scriviamo e poi verifichiamo tutte le operazioni che abbiamo fatto quindi ho impostato anzi facciamo così impostiamo 2 2 bit facciamo or abbiamo visto come fare 1 e 2 questo è il terzo metodo che abbiamo mettiamo 0 e l'altro lo mettiamo qui ok quindi stampiamo qui metto un set reg proviamo a vedere cosa è successo se tutto funziona ok set reg mi ha impostato i due registri facciamo che ne impostiamo un altro ctrl c cogliamo qua impostiamo questo ora andiamo a ripulirne uno per ripulire un bit per fare il clear scriviamo così faccio reg il clear è end uguale devo attenzione mettere il bit che voglio pulire che poi gireremo allora il bit che voglio pulire immaginiamo voler pulire il primo questo qua quindi mi copio questo o altrimenti metto il bv la e commerciale è un end allora per andare a ripulire solo quel bit metterò la bisciolina su mac possiamo ottenere la bisciolina facendo option tasto 5 su windows dovrebbe essere alt e poi 126 sul tastierino numerico abbiamo fatto la pulizia del flag vediamo se è vero quindi qui mettiamo clr carichiamo e vediamo cosa è successo set clear vedete che è andato ripulito posso anche fare il toggle cioè se è 0 è 1 1 viceversa allora toggle si realizza con il caporale se non sbaglio si chiama e il bit che voglio andare a impostare facendo così il 2 lo riattivo qui mettiamo tgl ricarichiamo dovremmo vedere sulla terza riga il nostro bit che si riattiva ok vedete l'abbiamo riacceso se lo riapplicassi lo vado a spegnere di nuovo se non vi fidate facciamo due volte quindi tgl 1 e 2 ultima cosa posso testare un singolo bit useremo un if con else così abbiamo i due casi per testare il singolo bit abbastanza semplice ce ne manca un po' che faremo reg il nostro registro e quindi faccio un end con il bit che voglio testare quindi se voglio verificare che sia il bit questo metterò dentro la maschera oppure se volete testare il bit nella posizione 0 1 metterete il vostro bv relativo qua stampiamo un messaggio e quindi diremo se il bit è a 1 o a 0 quindi qua se è impostato mettiamo 1 altrimenti metteremo 0 carichiamo ok vedete è 0 quindi scrive 0 per oggi è tutto avevamo già parlato delle operazioni bit per bit su registri e su variabili ho colto l'occasione per fare un ripasso per introdurre alcune macro che non avevamo ancora visto tipo il bv bene spero sia tutto chiaro vi saluto vi ringrazio ci vediamo presto ciao ciao